Saper decidere, saper agire di Carlo Lesma Benvenuto, pensa un attimo. Molto spesso iniziamo a fare delle cose nella nostra vita per passione oppure troviamo degli hobby che ci portano a vivere con maggiore intensità e a diventare persone migliori e spesso sappiamo che se ci focalizziamo possiamo esprimere veramente chi siamo. Oppure ci capita anche sul lavoro che siamo poco focalizzati, poco centrati e tutte le nostre energie perdono la loro intensità e la loro potenza. Ci capita anche di avere forti distrazioni che pilotano le nostre emozioni e poi non riusciamo a realizzare quello che davvero vogliamo. Distrazioni e perdite di tempo inutili e sappiamo benissimo che tutto quello che sto descrivendo non ci aiuta a velocizzare i tempi nel portare a termine quello che davvero è giusto per noi. Ora quello che voglio guidarti è portarti a focalizzarti davvero in ciò che vuoi. Quello che devi fare è rilassarti molto semplicemente e senza sforzo. La musica e le mie parole ti guideranno verso una concentrazione reale, verso i tuoi obiettivi e verso quello che davvero vuoi concretizzare.